Hai pensato che ero uno psicopatico quando ti ho contattato la prima volta? Sì, mi sembrava un po' uno stalker, soprattutto con quegli occhi da matto. Eccolo lì, anche perché prima era bianchino e rifetti viola e quegli occhi così, come si vede quello. Sì, poi dopo il viola, che è anche il colore del mio brand, mi ha creato un punto di legame con l'alieno, e quindi ho deciso di valutare la tua proposta e, dico la verità, all'inizio mi sembravi uno un po' strano. Poi invece quando ho visto la proposta, la bozza del progetto, perché era proprio agli inizi, mi è piaciuta tantissimo, subito ho detto ok, questo fa per me. Siamo entrati in sintonia. Il palco è per te, approfittatene. Allora, innanzitutto voglio iniziare ringraziandovi, ringraziando tutti gli artisti che mi seguono online, ma anche gli artisti che ho incontrato ieri, mi avete fatto sentire veramente una VIP, non sono abituata, non è molto nel mio carattere, però ho sentito davvero tanto l'affetto, la vicinanza. E mi ha colpito proprio il fatto come la community che può nascere online, poi dopo si può trasformare in una community di rapporti reali nel mondo fisico e questo è bellissimo. E poi voglio ringraziare Stefano e Francesco che si sono lanciati in questo progetto assolutamente innovativo ed estremamente coraggioso per l'Italia, per la mentalità che purtroppo è abbastanza frenata su questi argomenti. e hanno fatto un lavoro pazzesco, hanno investito tantissime energie e veramente grazie per avermi invitato qua, perché io sono davvero felice, grazie anche per quello che fate per gli artisti italiani. Allora, il tema del mio speech di oggi è la rivoluzione digitale nel mercato dell'arte. Per chi non mi conosce io parlo soprattutto di artisti visuali, quindi scultori, pittori e quel tipo di mercato. Allora, inizio parlandovi di come io sono entrata in contatto con questo mercato. Era il 2015, io ho sempre avuto... no no, sta pure dietro con... sì, no, resta lì, resta lì. Allora, era il 2015 e uno dei miei sogni è sempre stato quello di diventare una collezionista d'arte, sono sempre stata una grande amante d'arte, ma nella mia mente c'era un preconcetto, un pregiudizio che penso che tocchi la maggior parte delle persone che pensano a questo argomento. Per essere una collezionista devo avere un conto bancario come minimo a 6-0, minimo, e soprattutto devo avere delle conoscenze, delle conoscenze di una community, chiamiamola così, molto elitaria, che è inserita nel mercato dell'arte. Se non hai accesso a questa community è impossibile avere accesso comunque all'acquisto di determinate opere. Un giorno però arriva un amico nel 2015 e mi dice Ciao Stefania, guarda, ho scoperto questa applicazione. È l'applicazione di un sito di aste online internazionali che si chiama KataWiki. Vi consiglio di andare a dare un'occhiata se siete degli artisti visuali. Sai, io la uso per cercare degli orologi da collezione, ma ho visto che ci sono delle aste di opere d'arte. Prova a dare un'occhiata, magari trovi qualcosa che ti interessa. E da lì mi si è aperto un mondo. Ho scoperto una realtà che non pensavo che esistesse e mi ci sono tuffata a pesce. Ho iniziato a studiare, a fare ricerche. E voi sapete bene che quando dovete mettere i vostri soldi, cioè ci dovevo mettere dei soldi per comprare delle opere, l'attenzione sale moltissimo. Quindi ho fatto degli studi molto approfonditi e ho scoperto tantissime cose che ho iniziato a condividere con un'amica, una mia cara amica che è un'artista. Ho iniziato a parlare, ma fai così? Guarda, ho visto questo artista che fa cos'ha, eccetera, eccetera. E dopo un po' lei mi ha detto, Stefania, ma perché queste cose non le condividi con gli arti artisti? Ci sarebbe un gran bisogno di queste nozioni in Italia. Infatti ho fatto qualche ricerca e effettivamente ho visto che in Italia nessuno parlava di questi argomenti. Allora ho detto, mi ci tuffo, piatto ricco, mi ci ficco, sono la prima e farò subito un gran successore. Avanti. Per favore. Quando ho iniziato, due anni fa, ho aperto Artist Coaching, che è semplicemente un blog, una community online, che ha come obiettivo quello di condividere con gli artisti quali sono le opportunità che il web e il mondo dei social offre ad un artista per farsi conoscere, ma soprattutto per vendere la propria arte. E quando ho iniziato a propormi al pubblico, sono stata nei primi mesi, mi piace usare questo termine, asfaltata, proprio mi hanno disintegrato. Chi di voi conosce un po' il mondo dell'arte italiano, sapete che c'è una grandissima diffidenza nei confronti di tutto ciò che è virtuale, digitale, ok? C'è una mentalità per cui, una delle cose che mi veniva detta spesso, è che online non si trovano i veri artisti, ma solo artisti di serie B. Chi si rivolge al mercato online è un artista che non ce l'ha fatta e che quindi cerca una soluzione di ripiego. Un vero artista non venderebbe mai i suoi lavori online. I veri artisti non hanno bisogno di utilizzare i social media per parlare di sé. Perché? Perché nella mentalità italiana c'è ancora questa convinzione che l'artista non deve parlare. L'artista deve essere una figura quasi mitologica e irraggiungibile e deve essere il critico che parla per lui, il gallerista. Se l'artista parla di sé, vuol dire che si sta svalutando. Non parliamo poi di soldi. Guai ad associare opere d'arte e denaro. È una bestemmia. Allora, se non possiamo associare opere d'arte e denaro, regaliamole le opere d'arte. C'è qualcosa che non va. Queste sono le cose più carine che mi hanno detto qualcuno del settore si è firmato dicendo di essere una persona del settore e all'inizio mi diceva come osi dire queste cose? Sei la vergogna della categoria? Stai facendo un danno? E mi hanno consigliato di riprodurmi, di fare quell'atto che ti porta ad avere figli o di chiedere un impiego come donna delle pulizie. Bene, dopo due anni io sono qui e questa persona, non so neanche chi sia, se vedrà questo video la saluto e gli mando anche un bel bacio. Allora, andiamo avanti. Quindi, quando mi sono trovata di fronte a queste critiche ho detto, aspetta un attimo, a me piace ascoltare le opinioni di tutti, ma poi quando si tratta di lavoro o di soldi non me ne frega niente delle opinioni. Io voglio i dati. Voglio andare a vedere cosa succede davvero. e guardiamo cosa dicono i dati in relazione al mercato dell'arte online. Allora, nel 2018, vi do i dati del 2018 perché i dati del 2019 usciranno a marzo del 2020. Il valore totale delle vendite di opere d'arte online ha raggiunto i 6 miliardi di dollari. Quindi, c'è qualche soldino che gira. E ha registrato una crescita dell'11% rispetto al 2017, che è una crescita pazzesca. Allora, in realtà, negli ultimi 5 anni, la crescita è stata del 72%. Trovatemi un altro settore che cresce così velocemente. Ok? Allora, dicevano, no? Ma online vendono solo gli artisti sfigati. Allora, sono andata a vedere. Vediamo Christie's e Sotheby's, che sono le due case d'asta più famose al mondo. Come si relazionano rispetto a questo mercato? Ebbene, si sono tuffate a pesce in questo mercato. Christie's ha fatturato nel 2018 250 milioni solo attraverso le vendite online. E Sotheby's, poverina, solo 220. Quindi, non so se conoscete queste due case d'asta, di che tipo di artisti parliamo? Il top del top al mondo, sia di contemporanei che di artisti del passato. Quindi abbiamo già confutato le tesi di chi comunque all'inizio mi criticava. Andiamo avanti. Allora, online che cosa si vende? Patacche? Artigianato? Ebbene, vediamo che l'anno scorso, se prendiamo tutte le opere d'arte che sono state vendute ad un prezzo superiore al milione di dollari, l'8% è stato venduto online. Considerate che nel 2016 nessuna opera al di sopra del milione di dollari era stata venduta online. Quindi capite questo mercato come si sta muovendo? Vedremo nel 2019. Allora voi direte, vabbè, ma se c'è questo giro di soldi così alto, se sono Christie, Sotheby's che comunque si occupano di questo mercato, noi che siamo degli artisti emergenti, che sicuramente non facciamo opere che venderemo nel presente perlomeno a centinaia di migliaia di dollari o addirittura a milioni. A noi cosa interessa? Interessa moltissimo. Perché la grossa fetta del mercato dell'arte online, quindi di quei 6 miliardi che vi ho detto prima, spetta a opere che vengono vendute ad un prezzo inferiore ai 5.000 dollari. Quindi dalle poche centinaia di dollari o di euro, vabbè, a poche migliaia. Quindi è il mercato che interessa a noi. È un mercato favoloso. Appena io l'ho scoperto, ho detto, caspita, qui c'è da divertirsi. Avanti. Allora, perché questo mercato sta crescendo così tanto? Perché stanno cambiando i collezionisti. Chi era il collezionista una volta? Era la persona facoltosa, che aveva quindi una certa disponibilità di denaro, che aveva delle conoscenze a cui non tutti potevano accedere, anche proprio a livello di rapporti. Quindi conosco, non lo so, il gallerista famoso, eccetera, eccetera. Ok? Adesso la faccenda è cambiata, sta cambiando. I collezionisti vengono chiamati collezionisti millennials. Cioè appartengono a quella generazione di persone nata tra il 1980 e il 2000, di cui faccio parte anche io. Ed è una generazione amante della tecnologia. abituata a comprare online. Io, se ci penso, compro quasi tutto online. E questi collezionisti vogliono che l'esperienza di acquisto di un'opera d'arte abbia le stesse caratteristiche di tutte le altre esperienze di acquisto fatte online. Questi collezionisti non hanno il pregiudizio di dire no, ma comprare online è poco chic. Oddio, perdo i pezzi. Oppure un'altra cosa molto importante per questi collezionisti è quella di voler vedere sempre i prezzi. Voi provate a pensare quando comprate un vestito su Zalando o qualsiasi cosa su Amazon, che cosa succede? Vedete subito il prezzo. Fate un click, mettete nel carrello ed acquistate. invece se noi andiamo a vedere quello che succede nel mondo dell'arte si entra in una galleria e il prezzo non c'è perché è brutto. Poi si chiede al gallerista, abbiamo l'informazione oppure se si va sul sito di un artista nella maggior parte dei casi cosa succede? Mandami un'email e contattami per sapere il prezzo. Allora, il nuovo collezionista questa cosa non la vuole neanche vedere. Vuole subito il prezzo. Ci sono stati fatti dei test online. Se andate sul mio sito artistcoaching.it trovate tutti i report a cui faccio riferimento. Questi dati non me li sto inventando. Sono tutti documentati. Se prendiamo la stessa opera presentata al pubblico una con il prezzo l'altra senza prezzo quella con il prezzo ha sei volte più possibilità di essere acquistata rispetto a un'opera senza prezzo. In Italia questa è una bestemmia. Quindi so che se qualcuno conosce il mercato dell'arte se qualcuno guarderà questo video penserà che sono pazza. Il resto del mondo non la pensa così. Quest'estate ho fatto un corso per imparare a valutare le opere d'arte presso il Sotheby's Institute of Art che è la scuola più importante al mondo relativa al mercato dell'arte. ve lo dico perché mi sono informata da chi è davvero competente cioè l'ultimo scappato di casa. E mi hanno dato un testo che vi consiglio di leggere non c'è in italiano c'è solo la versione in inglese si chiama The Art of Buying Art l'arte di comprare arte di Alan Bamberger e dovevo studiare questo testo per dare l'esame e in una parte di questo testo diceva se vi capiterà di entrare in una galleria o in un sito di un artista e non ci sono i prezzi scappate. Questo è quello che si dice al di fuori dell'Italia sulla questione dei prezzi. Qualcuno in Italia dice ma no ma non è così tu prova a pensare di entrare in una boutique di Armani e vedere i prezzi che brutto è volgare si involgarisce l'oggetto. Non è un paragone che sussiste che può sussistere perché il mondo della moda il mondo dell'arte sono diversi su un punto fondamentale che se io entro in una boutique di Armani vado con piena fiducia se entro in una galleria d'arte no perché poi vi parlerò di altri autori che potete andare a leggere che vi daranno conferma di quello che vi dico. Il mercato dell'arte per la sua opacità cioè per il fatto che non si capisce bene come si muovono i soldi da dove arrivano se vengono riciclati se è vero che quando viene venduta un'opera ad un certo prezzo è il suo valore reale o viene pompato per fare della speculazione ebbene il mercato dell'arte è paragonato a due altri mercati al mercato delle armi e al mercato della prostituzione. Vi ho detto tutto. cosa è successo negli anni passati? Che galleristi o gli art dealer in generale se ne approfittavano in questo modo? Io non metto il prezzo dell'opera. Entri tu e mi chiedi quanto vuoi per quest'opera e ti dico un prezzo. Dopo un po' entra tuo cugino che ha la Ferrari e vestito con un vestito di Valentino e gli chiede un prezzo estremamente più alto ma qui parliamo di cifre estremamente grandi. Quindi a forza di fregature ormai non c'è più fiducia. Chi ha fiducia veramente dei prezzi del mercato dell'arte? Veramente poche persone. Come direbbe il mio professore di filosofia quando entri in galleria devi andare con le mutande di ferro diceva proprio molto molto attenti. Ovviamente non tutti sono così non voglio sparare a zero sul settore però per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno come si suol dire e quindi c'è questa sfiducia quindi bisogna superare questa sfiducia attraverso la massima chiarezza anche nei prezzi. Chi compra online che cosa fa? Non è che vede la tua opera vede il prezzo ah che bello compro alla luce comunque di un'esperienza passata degli errori fatti nel passato chi compra online vuole fare delle comparazioni ma come facciamo tutti vogliamo comprare una lavatrice non è che la compro subito la vedo su ebay la vedo sul sito di media world la vedo su amazon vedo quanto costa e la compro dove costa meno chi compra online non è che fa questo discorso per dire la compro dove costa meno lo fa però va a vedere altri artisti più o meno allo stesso livello oppure va a vedere i record delle vendite precedenti comunque se noi vendiamo su piattaforme online tutte le vendite sono registrate quindi si può fare un'idea del reale valore dell'opera d'arte e sa che non verrà fregato comunque come tutti quanti noi chi colleziona vuole pagare un'opera d'arte ma la vuole pagare giusto ok allora i baby boomers cioè la generazione precedente rappresenta ancora la maggioranza il 53% dei collezionisti ma i collezionisti millennials quali di cui vi ho parlato stanno crescendo sempre di più sono al 36% e sono aumentati dell'8% in un anno quindi stanno aumentando sempre di più questo cosa ci fa cosa ci interessa cosa interessa un artista questo vuol dire che mentre prima erano pochi i collezionisti pochi con tanto denaro adesso il bacino di utenza il bacino dei collezionisti si sta allargando sempre di più magari hanno meno possibilità economiche ma stanno aumentando moltissimo in numero questo vuol dire che per voi artisti c'è un bacino a cui accedere grandissimo voi pensate ho ascoltato qualche tempo fa l'intervista al founder di Artfinder che è una delle piattaforme più importanti al mondo di vendita di opere d'arte online funziona anche molto bene ve la consiglio se riuscite a accedere perché sono un po' selettivi e diceva imparava di questa cosa diceva pensate quante persone al mondo amano l'arte vanno a visitare mostre musei fanno dei viaggi in giro per il mondo per vedere un'opera d'arte voi pensate che queste persone non sarebbero felici di avere a casa un'opera originale magari non di Picasso o Modigliani ma di un artista emergente pensate che preferirebbero avere sulle pareti un'opera di questo tipo o una stampa dell'IKEA preferirebbero spendere qualche soldo per un'opera di un artista emergente un'opera originale perché non comprano perché non lo sanno non sanno che c'è la possibilità di farlo come è successo a me io non pensavo di poter crearmi una collezione eppure grazie a questo mercato una volta che ho scoperto per caso questo mercato ho scoperto posso farlo anch'io ok questa cosa è una cosa importantissima siamo nel allora soprattutto in Italia ci si lamenta sempre che il mercato dell'arte è in crisi e c'è la crisi non ci sono soldi per gli artisti non è vero ci sono palate di soldi per gli artisti è pieno di persone che vogliono comprare arte solo che non le riuscite a raggiungere tutto lì ma non perché è impossibile raggiungere perché non sapete perché non conoscete gli strumenti per farlo parlo in generale poi magari qualcuno li conosce andiamo avanti ah piccolo aneddoto sull'IKEA tempo fa ho conosciuto un artista inglese sempre online qualche anno fa e ho acquistato un suo pezzo per la mia collezione ebbene quest'anno è stato ingaggiato dall'IKEA e se voi andate all'IKEA troverete uno dei suoi poster in vendita si chiama Kev Moonday ha fatto il percorso inverso va bene allora andiamo avanti dunque c'è uno scrittore che vi consiglio che si chiama Donald Thompson lui ha scritto i suoi libri sono tradotti in italiano che spiega molto bene come funziona il mercato dell'arte c'è un altro libro bellissimo che è lo squalo da 12 milioni di dollari che vi permetterà di approfondire certe affermazioni magari un po' forti che ho fatto prima lui ve le spiega nel dettaglio e uno dei suoi ultimi libri è questo Bollebaron Devidità ve lo cito perché c'è un capitolo che parla del mercato online e lui riporta le parole di questo speculatore d'arte Stefan Simchowicz qualcosa del genere speculatore d'arte chi è uno speculatore d'arte? uno che compra e vende arte per fare i soldi compro basso e vendo a rialzo quindi diciamo non è un angioletto del mercato e lui ha fatto un paragone tra il mercato dell'arte e il luteranesimo come sapete Marti Lutero che cosa ha fatto? non ha detto basta chi l'ha detto che per pregare per entrare in connessione con Dio io ho bisogno di un prete di una suora del papa no un uomo può relazionarsi direttamente con Dio avanti grazie la stessa cosa sta succedendo nel mondo dell'arte non abbiamo più bisogno dei galleristi degli intermediari degli art dealer eccetera possiamo fare da soli basta avere un computer o un cellulare e una connessione internet e possiamo vedere tutte le opere d'arte disponibili e soprattutto possiamo vedere il prezzo di queste opere avanti per favore funziona sì e un'altra frase che ha detto è questa su Instagram possiamo visualizzare una quantità di opere talmente smisurata che nessun mercante d'arte al mondo potrebbe mai metterla assieme cioè io collezionista posso accedere a tutta l'arte a tutti gli artisti che hanno una qualche presenza online cosa interessa questa cosa a un artista che se io collezionista ho accesso a tutti gli artisti vuol dire che anche tu artista hai accesso potenzialmente a tutti i collezionisti che hanno una presenza online quindi anche se vivete su un paesino in cima alla Spromonte non ve ne frega niente se avete una connessione internet potete relazionarvi con il mondo ed è un bene perché in Italia non c'è le persone non sono facili di mettere mani al portafoglio per comprare un'opera d'arte nel resto del mondo sì la maggior parte degli artisti con cui lavoro che vendono online non dico il 100% ma se dico il 90-95% dei loro acquirenti è straniero Cina Nord Europa Nord America e vendono come dei pazzi vi assicuro infatti dico mannaggia non sono un artista altrimenti andiamo avanti Instagram Instagram è la piattaforma fondamentale per un artista perché Instagram è la piattaforma che viene utilizzata in assoluto solo quella oggi come oggi poi fra due anni chi lo sa perché il mondo dei social è sempre in cambiamento dai collezionisti per scoprire artisti per comprare arte vi dico le percentuali prese da quel report lassù così ve le andate a vedere tutti gli altri dati che vi ho dato prima li ho presi dal report più importante sul mercato dell'arte che è l'Art Basel Report quindi andate a vedervi tutti i dati così sapete che non vi invento nulla uscirà al prossimo di solito esce a marzo di ogni anno allora come usano i collezionisti Instagram l'80% per scoprire nuovi artisti il 79% per seguire gli artisti che già conosce il 75% per scoprire che cosa c'è di tendenza e il 75% questo ci interessa tantissimo per cercare nuove opere da acquistare cioè se adesso non siamo su internet e siamo degli artisti che fanno opere d'arte visuale siamo dei pazzi scatenati Facebook viene utilizzato in maniera quasi nulla per questi scopi quindi concentriamoci su questa piattaforma io non sono molto favorevole alla presenza su tutte le piattaforme esistenti perché utilizzare bene una piattaforma social è un gran lavoro cosa vuol dire utilizzare bene molti artisti mi dicono ma io ho già il mio account Instagram il sito ma non mi guarda nessuno dove sono tutti questi collezionisti di cui parli ci sono bisogna vedere se tu stai usando bene Instagram Instagram è facile uno pensa metto una foto scrivo due paroline metto tre hashtag chi si è visto si è visto assolutamente no Instagram è uno strumento estremamente complesso che è in continuo aggiornamento proprio quello che funzionava due mesi fa su Instagram oggi può non funzionare più fino a qualche mese fa andavano tantissimo i famosi bot andate a vedere ci sono artisti che hanno account con milioni di follower poi basta fare una stupidissima ricerca con degli strumenti di analisi e scoprite che sono tutti i follower comprati o raccolti attraverso i bot non servono a nulla uno fa una figura veramente meschina appena ti scoprono due sei pieno di fake follower che non ti servono a niente a noi interessa avere anche pochi follower ma veramente interessati a quello che facciamo pensate anche solo di avere duemila follower di persone a cui piace davvero la vostra arte e solo cento comprano insomma buttiamoli via ok andiamo avanti per favore ah vai ancora avanti anche la prossima allora quindi questo cosa vuol dire che alla luce di questi dati ci sentiamo di dire che il mercato dell'arte è in crisi no girano soldi a palate veramente solo che l'intercetta chi sa muoversi bene all'interno di questo mercato quindi siamo in un periodo che a me piace definire il nuovo rinascimento non siamo in crisi è in crisi un modello di mercato quello delle gallerie che stanno chiudendo quasi tutte perché perché sta succedendo quello che è successo negli altri settori che cos'è una galleria è un negozio che vende oggetti opere d'arte non so se vi ricordate quando eravamo piccoli in ogni paesino c'era il negozio di chi vendeva scarpe quello che vendeva i vestiti quello che vendeva le televisioni tutti chiusi sta succedendo la stessa cosa per i negozi gallerie il mercato si sta spostando online quindi non c'è crisi c'è solo un cambiamento di direzione e quello che voi dovete fare è inserirvi adesso in questo mercato perché è un mercato agli inizi non è saturo non è che vi dovete svegliare fra qualche anno e dire ma io vorrei però è già tutto colmo e stracolmo se lo fate adesso avrete ottimi risultati però dovete lavorare bene dovete prepararvi dovete studiare mettiamo l'artista al centro adesso di tutto il nostro discorso cosa deve fare un artista per sfruttare questo mercato innanzitutto la piattaforma social ve l'ho detto Instagram Instagram che però non deve essere usato come una vetrina non serve a niente non gliene frega nessuno ci sono milioni di artisti su Instagram cosa me ne frega di te che ti metti in mostra Instagram è una piattaforma per creare relazioni per creare rapporti con un pubblico che si appassionerà della vostra arte e che si trasformerà poi nel tempo in un vostro collezionista questo è il segreto di Instagram è una piattaforma di relazioni i galleristi come pensate che vendono le opere d'arte mettendo allestendo bene la vetrina mettendo l'alberello di Natale a Natale no creano chi fa bene il gallerista adesso vanno di moda quelli che affittano i muri e chiedono cifre esorbitanti agli artisti per esporre senza vendere nulla lo scopo di un artista il lavoro di un gallerista è quello di creare relazioni con un pubblico dare informazioni creare legami rapporti di fiducia per cui poi dopo si va ad effettuare la vendita eccetera la stessa cosa dovete fare voi quindi Instagram studiatevelo bene investite per studiare per prendere qualcuno che vi spieghi come caspita utilizzarlo per bene fare storytelling ragazzi sapete come si fa a vendere facendo storytelling punto raccontate la storia della vostra opera della vostra carriera artistica vedrete che le persone si appassioneranno allora non sarete voi a vendere ma saranno loro che vorranno acquistare questo è fondamentale poi dovete avere un sito web mai stare solo sui social i social non sono roba vostra i social li controlla chi è a capo dei social in questo caso Zuckerberg vi possono chiudere l'account domani i social può cambiare politiche guardate cosa è successo a Facebook prima tutti su Facebook adesso via tutti da Facebook ok quindi dovete avere un sito web casa vostra dove fate quello che volete è il vostro biglietto da visita soprattutto quando qualcuno vi conosce attraverso Instagram e dice beh bravo mi piace adesso metto mano al portafogli per acquistare prima cosa che farà sarà andare a vedere il vostro sito web ma esiste davvero questa persona questo artista ha una presenza cioè posso fidarmi sì e allora poi la persona va a acquistare io ultimamente volevo comprare una ceramica una testa di moro cosa ho fatto sono partita da un hashtag testa di moro ricerca ricerca in Instagram mi compaiono tutti i post li faccio riguardo tutti vedo alcuni post che mi piacciono più vado a studiarmi l'account dell'artista trovo l'artista che mi piace vado a vedere il sito web se c'è se non c'è esiste e poi effetto l'acquisto per effettuare l'acquisto cosa ci serve? una piattaforma di vendita online che sia un vostro e-commerce che sia una piattaforma di vendita ce ne sono tante io vi consiglio Katawiki Artfinder Sachi Art ok dovete averla insomma perché io vi devo pagare in qualche modo altra parentesi ma io ho già un account su Sachi Art e nessuno compra niente e buonanotte è una piattaforma ci sono milioni di artisti su queste piattaforme non potete pensare che uno vi scopra così per magia la piattaforma la piattaforma vi serve proprio per sbrigare la faccianda pratica della compravendita ok da sicurezza a chi c'è dall'altra parte io so che se compro da te sul sito web sì ma anche no se vendete opere che hanno un certo valore un certo prezzo e so che compro su Katawiki so che compro su Artfinder lo faccio occhi chiusi perché la piattaforma fa da garante se l'opera si rompe non arriva se voi siete dei truffatori se chi è dall'altra parte non manda i soldi vi tutelano ok torniamo alla slide precedente che ho quasi finito il mito dell'artista povero che cos'è che blocca soprattutto l'artista italiana è che se l'artista è di successo guadagna è riconosciuto internazionalmente non è un artista fateci caso tutti quelli che guadagnano Banksy adesso c'è Cattelan Cuse non sono artisti sono dei dei marchettari cioè proprio puh abbiamo questa mentalità per cui se associare arte soldi è tabù e non si capisce perché si capisce perché anzi tutto nasce da questo scrittore Mourget che nella metà dell'ottocento ha scritto scene della vita di Bohème da cui poi è nata anche la Bohème di Puccini poi l'ha scritta anche Leon Cavallo l'anno dopo dove parlava della vita di questi artisti che vivevano nei quartieri latini di Parigi e come vivevano erano dei disadattati bravissimi artisti però disadattati sociali drogati arcolizzati rapporti disastrati era diventata una moda c'erano addirittura i figli di famiglie ricchissime che si spogliavano di tutto per vivere così con i soldi un po' come gli hippie negli anni 70 che vivevano peace and love però avevano i soldi del papi alle spalle e quindi questa cosa è rimasta nel tempo l'artista l'artista è un poverino l'artista è quello che vive solo di arte poi non dà gli in mano due soldi perché va fuori di testa non riesce a gestire niente allora io se fossi un artista sarei incazzatissimo cioè dico ma scusate ma allora ci saranno artisti che hanno delle difficoltà nella gestione delle loro attività ma ci saranno anche artisti in gamma non è che sono artista sono un panda da preservare ok pensate nel rinascimento cioè Michelangelo ragazzo aveva due attributi così si prendeva a cornate con il papa per i soldi Giotto era un imprenditore pazzesco Leonardo cioè viaggiavano facevano trattavano litigavano anche parecchio per i soldi e questo li rendeva meno artisti secondo voi è una stupidaggine è una stupidaggine che secondo me fa anche comodo a chi è nel settore perché così ti gestisco io l'attività così i tuoi soldi li gestisco io affidati a me tu pensa solo a fare le opere d'arte il resto lo faccio io quindi ragazzi il senso di tutto questo vi ho detto tante cose se andate sul mio sito trovate tutti gli approfondimenti il senso qual è? aprite gli occhi siamo in un momento dove vi potete affrancare potete diventare voi gli imprenditori di voi stessi i gestori della vostra attività c'è lo spazio per fare carriera anche se non siete riconosciuti dai maggiori critici italiani se non avete fatto l'accademia se non avete fatto il percorso tradizionale non è importante qua ve la giocate voi con le vostre carte se siete bravi perché non è uno spazio miracoloso siete bravi potete vivere della vostra arte vi dovete solo impegnare basta grazie grazie Stefania resta pure qui con noi un attimo ne valeva come dire no? quanto ci siamo arricchiti anche noi là ascoltando questo intervento grazie di cuore grazie a te